Latino-americano, i ragazzi mitati dal maestro Carlo Papaleo si eseguiranno un sincronizzato latino. Entrano Vittorio, Miriana, Alessandra, Annalisa e Gemelle, vero? Claudia, Francesca Pia e Chiara. Eccole qui, noi ci spostiamo, il parco è il vostro, musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.